e benvenuti a tutti, do il benvenuto al relatore del dell'ultimo seminario sinergia eh di questo di quest'anno accademico è Alberto Naibo. Il professor Naibo è appunto professore associato presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Parigi 1, Panteon Sorbonne e lavora presso il Laboratorio di Ricerca e l'Istituto di Storia e di Filosofia della Scienza e della Tecnica di Parigi. È stato visiting researcher presso l'Università di Helsinki, presso l'Università di Rio de Janeiro, è stato postdoc all'interno del progetto Hypothesis, la ipotetica reasoning e its proof theoretical analysis. Il campo di ricerca di Alberto va dalla logica matematica, in particolar modo teorie della dimostrazione, la filosofia della logica, alla filosofia della matematica. Non elenco le sue pubblicazioni perché sono tante, ma in tutti questi campi ha dato dei contributi sempre estremamente originali. Voglio segnalare un progetto che è apparso di recente nelle mailing list. Alberto è anche il principal investigator di un progetto bellissimo che si chiama Di Geometry of Algorithm. Lo avete visto sicuramente comparire qualche settimana fa nelle mailing list, credo per una borsa, per un postdoc, quindi se non è ancora scaduto, buttate un occhio a questo avviso che è estremamente interessante, poi poter lavorare con Alberto è sicuramente una cosa per un giovane molto importante, quindi buttate un occhio a questo avviso nelle liste. Ringrazio ancora Alberto, mi dispiace che siamo riusciti a organizzarlo solo online, era in progetto da tanti anni questo incontro, puntualmente anno dopo anno diciamo dai organizziamo, dai organizziamo, l'ideale era in presenza, però abbiamo tagliato la testa il torbio e ho detto ok, facciamolo intanto online, poi in presenza sarà una seconda occasione. Quindi grazie ancora Alberto per aver accettato questo invito e il tema della conferenza è quello che vedete proiettato, che è in teoria della dimostrazione e geometria proiettiva. A te la parola Alberto, grazie ancora. Intanto ringrazio a te Pierluigi e a tutti quelli che sono presenti, è vero era qualcosa che avevamo in progetto da un po' e a me spiace molto effettivamente non essere a Orvino, sarebbe stata veramente stupendo, ma la situazione in questo momento è un po' così. Ti ringrazio molto e visto che hai menzionato il progetto The Geometry of Algorithms colgo l'occasione per dirlo no, il bando per questo posto da post hoc non è ancora scaduto, quindi se qualcuno è interessato è aperto ancora fino al 6 luglio, potete scrivermi. Finisco con l'autopromozione. Bene, quindi inizio allora se vi va bene. Il tema come dicevi è in questo seminario cerco di mettere insieme tre cose. Una riflessione su la teoria della dimostrazione, Gensen e la geometria proiettiva. Non so quanto profondo siano le idee che tenterò di esporre, ma almeno tentano di coprire delle questioni sulle quali mi sembra non ci sia tantissima letteratura. Bene, magari inizio. Quindi qual è il mio punto di partenza? Beh, il punto di partenza è che nell'ambito della logica e della filosofia della matematica il nome di Gerard Gensen è noto, associato principalmente a due risultati. Uno è l'introduzione di sistemi di deduzione formale, come la deduzione naturale, il calcolo dei sequenti, concepiti per riflettere, qui cito proprio Gensen, quanto più esattamente possibile i ragionamenti logici che sono realmente usati nelle dimostrazioni matematiche. E il secondo risultato noto di Gensen è l'applicazione di questi sistemi formali allo studio delle dimostrazioni dell'aritmetica, con lo scopo particolare di ottenere una dimostrazione di coerenza di quest'ultimo. Vi sono comunque altre teorie matematiche, o ci si può chiedere se vi sono altre teorie matematiche, che il Gensen considera meritevoli di essere studiate dal punto di vista delle loro dimostrazioni. O, per porre un po' meglio la questione, vi sono altre teorie che, secondo Gensen, dovrebbero cadere o rientrare nell'ambito di studio della cosiddetta teoria della dimostrazione, in tedesco, Beweistheorie. Beh, sicuramente egli prende in considerazione l'analisi, cioè la teoria dei numeri reali, e la teoria degli insiemi, visto che menziona esplicitamente la possibilità di ottenere una dimostrazione di coerenza di queste due teorie. E sappiamo anche che verso la fine della sua vita, o meglio, insomma, quando era stato incarcerato, non racconto tutta la storia di Gensen, per quella, insomma, c'è una letteratura abbastanza abbondante, possiamo eventualmente tornare dopo, ma durante il suo periodo di prigionia, e che poi è quello dove termina la sua vita, sappiamo che stava lavorando a una prova, una dimostrazione di coerenza dell'analisi. Quindi sappiamo che queste sono delle teorie che gli interessano e che rientrano nello scopo della, nell'ambito della teoria della dimostrazione. Tuttavia, egli discute anche, seppur molto brevemente, il caso della geometria proiettiva. E ben qui questa discussione passi spesso inosservata, mi pare che non debba comunque essere ridotta a qualcosa di puramente aneddotico. E questo è il mio punto di partenza. Quindi l'obiettivo della mia presentazione è in un certo senso doppio. Da una parte, offrire una spiegazione plausibile della maniera in cui Gensen stabilisce una connessione fra teoria della dimostrazione e geometria proiettiva, a mezzo del principio di dualità. E la seconda è mostrare che questa connessione gioca un ruolo rilevante dal punto di vista della cosiddetta teoria generale della dimostrazione, cioè, come la dice Pravitz, Pravitz a introdurre questo termine, teoria generale della dimostrazione, cioè dal punto di vista dello studio delle dimostrazioni in se stesse e non come uno strumento utilizzato per scopi riduttivi, come per esempio lo stabilire la coerenza di una certa teoria matematica. Per far questo confronterò, quindi, la maniera in cui Gensen analizza il principio di dualità, con quanto dice Hilbert a proposito di questo stesso principio in alcuni suoi lavori fondazionali. Come vedremo, userò soprattutto il testo di Hilbert sull'infinito. E quello che mi interessa è mostrare che lo statuto che Hilbert assegna al principio di dualità giustifica una connessione fra geometria proiettiva e teoria della dimostrazione che è solo di tipo implicito e dove in più la teoria della dimostrazione è guardata esclusivamente in chiave riduttiva, cioè in relazione al solo problema della coerenza. Mentre in Gensen si ha che lui si appoggia al principio di dualità per stabilire una connessione che è invece esplicita fra geometria proiettiva e teoria della dimostrazione e che è giustificata da un'analisi strutturale delle dimostrazioni. Bene, questo è un attimo l'introduzione. Quindi, come dire, il punto, il mio obiettivo è mostrare in che maniera Gensen mette in relazione geometria proiettiva e teoria della dimostrazione. Per farlo passerò anche via Hilbert. Ma prima di fare tutto questo, vorrei magari ricordare due o tre elementi, ma penso siano noti quasi a tutti, però qualche rudimento di base sulla geometria proiettiva. È usanza comune presentare la geometria proiettiva dicendo che corrisponde alla formulazione matematica della teoria della prospettiva sviluppata e usata dagli artisti rinascimentali per ottenere delle rappresentazioni realistiche di tipo bidimensionale sulla tela di scene che sono invece tridimensionali. In particolare, secondo la teoria della prospettiva, lo sappiamo più o meno tutti, che le linee che sono parallele in una scena tridimensionale devono essere rappresentate sulla tela come convergenti, poiché dal punto di vista della visione che noi abbiamo visualmente sembrano incontrarsi in un punto all'orizzonte. Ora, se si prende la geometria Euclidea come teoria di base con la quale descrivere le nostre visualizzazioni, questo suggerisce poi l'idea di estendere la geometria Euclidea in maniera di ottenere che le linee parallele si incontrano in un cosiddetto punto all'infinito. Boh, se vogliamo essere un po' più precisi, prendiamo un piano E che sia un piano Euclideo. In realtà, per quello che sto facendo qui, è sufficiente considerare un piano affine, cioè mi basta giusto una relazione di incidenza, mentre le relazioni d'ordine e congruenze non si interessano più di tanto. Comunque, sia un piano E e un piano Euclideo. Il corrispondente piano proiettivo, come possiamo costruirlo? Possiamo avere tutti i punti di E e un punto in più per ogni direzione del piano E, dove una direzione è definita come una classe di equivalenza di linee, cioè la direzione rispetto a una linea L è un insieme di altre linee che sono equivalenti a L, dove l'equivalenza è data che o le altre linee M sono uguali alla linea L, oppure sono parallele, cioè detta un po' velocemente, un po' meglio. L'idea è di definire una direzione come una classe di equivalenza di linee parallele e definire poi un punto all'infinito come una di queste classi di equivalenza, ok? Quest'idea è un'idea che si ritrova, per esempio, già in freghe, per esempio in freghe sui fondamenti della matematica, per esempio, e sono questioni, cioè l'idea è di definire più o meno i punti all'infinito per astrazione, ecco, se la vogliamo dire un po' più brutalmente, no? E se volete una discussione un po' più raffinata di queste cose, c'è un articolo di Paolo Mancosu e un articolo abbastanza recente di Brun Teredo, soprattutto sullo statuto di questi punti all'infinito, statuto ontologico. E cosa succede per le linee? Beh, le linee sono tutte le linee D, dove ciascuna è incidente con il punto all'infinito, no? Che corrisponde alla sua direzione, che abbiamo visto, e in più una linea all'infinito, che è incidente con tutti e soli i punti all'infinito, e questa linea corrisponde alla cosiddetta linea dell'orizzonte. Ok, ora, quando consideriamo questo piano proiettivo, dove il piano Euclideo è coordinato su R, cioè dove prendiamo come coordinate delle coordinate che sono dei reali, otteniamo il cosiddetto piano reale proiettivo. In realtà, la teoria del piano reale proiettivo sappiamo che può essere sviluppata indipendentemente da qualsiasi considerazione di tipo Euclideo, o meglio, indipendentemente soprattutto da considerazioni di tipo metrico. E questo è quello che è stato mostrato inizialmente dai lavori di von Stout, poi Klein e successivamente Pieli. E in generale una fondazione indipendente della geometria proiettiva, Tukur, quindi non solo quella reale, può essere raggiunta per mezzo del metodo osseomatico, ed è una presentazione in particolare osseomatica, sintetica, quella che userò poi. Ok? Però mi interessava dare anche la costruzione del piano Euclideo, del piano proiettivo a partire dal piano Euclideo, perché ci tornerà utile quando andiamo a guardare il dato. Ora, un'altra considerazione è, come nota Torretti in un articolo nella Stanford Encyclopedia sullo sviluppo della geometria nel ventesimo, diciannovesimo secolo, lui nota che al giorno d'oggi la geometria proiettiva non gioca un grande ruolo in matematica, ma alla fine del diciannovesimo secolo diventò sinonimo di geometria moderna e giocò un ruolo veramente centrale nel dibattito fondazionale. Quindi questo è per dire che perché delle persone come Hilbert, Gensen parlano della geometria proiettiva perché era un tema moderno, contemporaneo, qualcosa sulla quale c'era un grosso dibattito. Cito alcuni esempi salienti dell'importanza della geometria proiettiva nel dibattito sui fondamenti. Uno è noto a tutti, il programma di Erlang, iniziato nel 1872 da Felix Klein, consiste nel classificare differenti tipi di geometria, affine, iperbolica, ellittica, parabolica, euclidea, come sotto geometrie della geometria del piano reale proiettivo relativamente a dei gruppi di trasformazioni e alle proprietà invarianti rispetto a queste trasformazioni. Per esempio, non so, potete definire la geometria affine come quella che è invariante, che mantiene invariante delle trasformazioni invarianti rispetto alla linea all'orizzonte. La geometria proiettiva diventa allora o viene così concepita come un quadro unificante per tutte le altre geometrie. E proprio ispirandosi al programma di Klein, nell'Essay on the Foundation of Geometry, uno dei primi scritti di Russell, Russell cerca di difendere una posizione neocantiana, mostrando come una condizione necessaria dell'esperienza, che è una condizione, scusatemi, necessaria dell'esperienza, appoggia su una certa forma di esternalità e questa forma di esternalità si dischiude a noi a priori proprio nella geometria proiettiva, se lo vogliamo dire un po' meglio. Russell cerca di ottenere una deduzione trascendentale della geometria proiettiva così da garantire una conoscenza sintetica a priori di quest'ultima. Quindi è la geometria proiettiva quella che diventa fondamentale sulla quale basare la nostra esperienza. E questo è un punto che si ritrova anche in Cassire, in sostanza e funzioni, nel capitolo 3. Quindi per dire la geometria proiettiva è qualcosa di molto discusso. Ora non entrerò in tutti questi dibattiti, ma mi concentro inizialmente su Hilbert. E anche Hilbert assegna un ruolo privilegiato alla geometria proiettiva. Non solo segna un ruolo dal punto di vista matematico, perché le configurazioni proiettive, in particolare quella di Desarghe e di Pappo, sono al centro del suo calcolo, della sua aritmetica sui segmenti. Lui definisce nei fondamenti della geometria un'aritmetica, un calcolo sui segmenti che è avulso da tutte le considerazioni di tipo metrico e lo fa proprio usando delle configurazioni proiettive. Ma lui assegna a Hilbert anche un ruolo privilegiato alla geometria proiettiva da un punto di vista più, oserei dire, non solo matematico, tecnico, ma anche epistemologico, perché è un esempio particolarmente rappresentativo di quello che lui chiama il metodo degli elementi ideali. E prendo qui quindi una citazione che viene proprio dal testo sull'infinito. E lui dice il metodo degli elementi ideali è usato già anche nella geometria elementare piano. Qui originariamente, dice, i punti e le rette del piano sono soltanto gli oggetti reali effettivamente esistenti. Per essi vale, tra gli altri, la somma del collegamento, direi qui di incidenza, vedrete poi perché. Per due punti passa una e una sola retta, o se volete, per due punti sono intersecati o incidenti con una e una sola retta. Da questo assioma segue che due rette si intersecano, sono incidenti al massimo in un punto. Non vale tuttavia il teorema che due rette si intersecano sempre in un punto. Anzi, le due rette possono essere anche paralleli. È noto però che introducendo elementi ideali, cioè dei punti all'infinito, quelli che abbiamo visto prima, e una retta all'infinito, possiamo fare in modo che valga in generale il teorema secondo cui due rette si intersecano, o sono incidenti, sempre in uno ed un solo punto. Ok? Ora, vedete, se guardiamo queste due teoremi, no? Che abbiamo, uno è una somma e l'altro diventa un teorema, abbiamo che queste due frasi che ho evidenziato sono, possiamo dire, una laduale dell'altra, nel senso che possono essere ottenute una dall'altra scambiando i termini punto con retta e viceversa. O meglio, possiamo ottenere se prendiamo, ed è per quello che ho usato la relazione di incidenza qui, piuttosto che dire passare per o essere intersecato. Usiamo incidenti e si vede bene che uno dice per due punti, o meglio, due punti sono incidenti con una e una sola retta, è la sioma, e aggiungendo gli elementi ideali, i punti e la retta all'infinito, otteniamo come teorema che due rette sono incidenti sempre in uno e un solo punto. Ok? Quindi sono duali perché sono lo stesso in cui ottenuto scambiando punti con lì. E Hilbert continua poi dicendo che gli elementi ideali all'infinito hanno il vantaggio di rendere il più possibile semplice e chiaro il sistema delle leggi del collegamento, dell'incidenza se volete, e in virtù della simmetria tra punto e retta si ricava da ciò, come è noto, il tanto fecondo principio di dualità della geometria, o meglio, il principio di dualità della geometria proiettiva. L'idea è proprio questa, che in geometria proiettiva punti e rette o punti e linee possono essere trattati in maniera simmetrica nel senso che sono interscambiabili. E questa simmetria dà luogo al principio di dualità secondo il quale se una certa proposizione della geometria proiettiva è vera, allora lo è anche la proposizione duale, cioè la proposizione ottenuta invertendo linee o scambiando il termine punto con il termine linea e il termine linea con il termine punto. Ma in che senso un tale principio è, diciamo, così tanto fecondo, no? Come dice Hilbert. Se guardiamo il carteggio che Hilbert ha con Frege, Hilbert sembra considerare che questa fecondità sia proprio una fecondità di tipo epistemologico. Tento di spiegarmi meglio. Hilbert vede il principio di dualità come un esempio del fatto che un sistema assiomatico, qui quello della geometria proiettiva, non ha lo scopo di definire i termini di base di una teoria, punti e linee, visto che gli assiomi non fissono in maniera univoca il riferimento di tali termini. Gli assiomi determinano invece quella che potremmo chiamare una struttura relazionale, uso qui una terminologia che usa Bernays quando commenta i lavori di Hilbert, e i termini di base possono essere interpretati come qualsiasi genere di elementi che soddisfano le relazioni caratterizzate da questa struttura. In particolare il principio di dualità permette di avere una trasformazione che interscambia l'interpretazione dei termini di base senza cambiare l'insieme degli enunciati che valgono nella teoria. Come dice Hilbert stesso, ogni singola teoria può sempre venire applicata a una quantità infinita di sistemi di elementi fondamentali. Occorre solo applicare una trasformazione bionivoca e stabilire che gli assiomi per gli oggetti ottenuti tramite la trasformazione devono essere corrispondentemente gli stessi, come accade per esempio con il principio di dualità. L'idea è che il principio di dualità è un esempio di multiinterpretabilità dei termini di base di una teoria. E qui qualche studioso come Gunther Eder e Georg Schimmer vedono il germe dello sviluppo dell'approccio model teoretico contemporaneo, la multiinterpretabilità. E quindi la fecondità del principio di dualità sembra qui basarsi sul fatto di permettere un ragionamento di tipo model teoretico, cioè un ragionamento su degli elementi astratti di una struttura relazionale. Perché astratti? Beh, perché si fa astrazione della loro natura. Non sappiamo qual è esattamente l'elemento di cui parliamo, ma ci interessa solo sapere che è un elemento in quanto elemento di una certa struttura. E questo però è possibile, almeno nel caso della geometria proiettiva, proprio grazie all'introduzione degli elementi ideali, perché sono quelli che permettono di avere questa interscambiabilità di punti con linee e viceversa. Ma gli elementi ideali, o l'uso degli elementi ideali, riposa sull'uso di metodi infinitarii. Come dice Hilbert stesso, in geometria proiettiva, per definire un punto ideale, si adoperano infinite rette, no? Quelle parallele faranno la definizione per astrazione che abbiamo visto prima, di un punto all'infinito, come un insieme di rette, o meglio, come una classe di equivalenza di rette parallele. E questa classe di equivalenza può essere un insieme infinito. Ora, poiché gli enunciati della geometria proiettiva fanno quindi riferimento a questi elementi ideali, quando ragioniamo in geometria proiettiva, beh, stiamo facendo uso di forme di ragionamento infinitario. Allora, come rendere sicure queste forme di ragionamento infinitario, si chiede Hilbert? Beh, secondo lui, i metodi inferenziali basati sull'infinito devono essere sostituiti con processi finiti, come per esempio i processi eseguiti in aritmetica. Ora, se guardiamo al lavoro fatto da Hilbert nei fondamenti della geometria, la giustificazione dell'uso degli elementi ideali può essere descritta nella maniera seguente. Siano G e A due teorie, diciamo G una teoria geometrica, che usa come quella della geometria proiettiva, per esempio, che usa elementi ideali, e A un'algebrica. Chiarifico dopo, potrei dire aritmetica, però per il momento diciamo algebrica, le quali corrispondono rispettivamente a due insieme di enunciati, una di un linguaggio LG e una di un linguaggio LA, tale per cui, diciamo, condizione non banale, insomma, è che G non sia l'insieme di tutti gli enunciati che possiamo formare nel linguaggio LG e che A non sia l'insieme di tutti gli enunciati che possiamo formare con il linguaggio LA. Si noti che, in teoria, questi linguaggi LA e LG non è necessario che siano linguaggi completamente formalizzati. Se ci pensiamo, quello che sto descrivendo è quello che fa Hilbert nei fondamenti della geometria e a quel tempo non aveva un linguaggio totalmente formalizzato. Vedremo dopo perché, invece, servirà poi la formalizzazione. E supponiamo di avere T una traduzione, una qualche mappa, mappatura, no, che va da LG a LA, tale per cui se ho un enunciato DG che sta in G, allora TDC sta in A. L'idea è quindi che con questa mappa, con questa traduzione, gli enunciati geometrici sono associati ad associati aritmetici, o meglio, scusatemi, algebrici, e quindi ad operazioni aritmetiche. E questo è vero in particolare nel caso della geometria proiettiva per Hilbert, perché gli assomi proiettivi di Desarghe e di Pappo vengono associati a delle proprietà, come la proprietà dell'addizione e della moltiplicazione, che caratterizzano rispettivamente un corpo, o non so, corpo post-game, o insomma un anello di divisione e un campo. Cioè, l'idea è che, e questo è uno dei grandi risultati di Hilbert, quando vale la configurazione di Desarghe, si può definire una aritmetica dei segmenti e questa aritmetica è una aritmetica dove le operazioni che vengono eseguite di somma e moltiplicazione sono le operazioni che si fanno in un corpo, mentre quando si mette la configurazione di Pappo, la somma di Pappo, si ottengono somma e moltiplicazione che corrispondono alle operazioni invece in un campo. Ok? E inoltre, si noti che se la traduzione distribuisce sugli operatori logici, beh, si può prendere la contrapposta di uno, di questa qui, e ottenere che se B e non B, quindi una contraddizione, non sta nell'insieme dei teoremi, no? A Zebritz o Aritzmetitz in questo caso, allora la contraddizione, la formula, l'annunciato contraddittorio tradotto in geometria, non sta nell'insieme dei teoremi della geometria, cioè, dette altrimenti, se la teoria aritmetico-algebrica in questo caso è coerente, allora lo è anche la teoria geometrica. Quindi vedete come questo metodo, no? Di traduzione di una teoria geometrica in una aritmetica dà anche luogo poi a una considerazione sulla questione della coerenza delle teorie. Cioè, diciamola un po' meglio, la ricostruzione precedente sembra giustificare il seguente requisito che Hilbert stesso richiede, cioè c'è una condizione, dice, una sola ma assolutamente necessaria, alle quale è collegato l'uso del metodo degli elementi ideali. E questa è la dimostrazione della non contraddittorietà. L'estensione mediante aggiunta di ideali è infatti assimilabile, pardon, non assimilabile, ammissibile, solo se con essi non sorgono contraddizioni nel precedente e più ristretto dominio. Nella geometria, la dimostrazione di non contraddittorietà si ottiene mediante la ricostruzione, la riconduzione alla non contraddittorietà degli assomi aritmetici. Esattamente come abbiamo appena mostrato, o meglio, sulla quale abbiamo dato un'idea. Ok? Ma per Hilbert il problema di fornire una dimostrazione di non contraddittorietà, quindi una dimostrazione di coerenza, è ciò che determina, come dice lui stesso, la sfera d'azione della sua teoria della dimostrazione. E ne costituisce davvero il nucleo. Si può allora pensare di riformulare la condizione 1, quella che avevo qui, di traduzione dei teoremi, se voglio mettere, di G nei teoremi di A, in termini più, diciamo, teoretico-dimostrativi. E qui si serve un po' di formalizzazione. L'idea sarebbe di quindi dire che se C è un enunciato derivabile a partire dagli assomi della teoria geometrica, allora la traduzione di C è derivabile a partire dagli assomi della teoria aritmetica, dove la relazione di derivabilità, è qui la relazione di derivabilità definita dagli assomi delle regole della logica del primo ordine, mentre gli assomi di G, AXG e AXA sono gli assomi delle teorie G e A formulati e formalizzati, quindi al primo ordine. Ok? E questa riformulazione apre allora la via a una lettura molto più radicale della riduzione della geometria proiettiva all'aritmetica. Perché? Vediamo un po' più precisamente. L'idea è questa, è di dire che C è derivabile in una teoria, logicamente al primo ordine, a partire dalla formulazione degli assomi della geometria al primo ordine, significa che esiste una dimostrazione, una derivazione P, tale che quindi connettiamo gli assomi a C via una sequenza di formule B1, BN, dove BN corrisponde a C e ogni B è o un elemento di AXG, cioè degli assomi, o un'istanza di un assoma logico o la conclusione di una regola logica applicata a un sottoinsieme, pardon, avrei dovuto dire di B1, BI-1, scusatemi, qui c'è un piccolo refuso. E una prova P è in tal senso una sequenza finita di formule, no? E ogni formula a sua volta è una sequenza finita di simboli del linguaggio del primo ordine. Diventa quindi possibile codificarla, questa sequenza finita di formule, su un numero naturale, no? Mediante aritmetizzazione. E quindi è inoltre possibile definire una relazione ricorsiva primitiva, dim, fol, no? N di C, che dice cosa? Cioè una relazione binaria che dice che N è il codice, cioè un numero naturale, che è il codice di una prova, di una dimostrazione al primo ordine di C, o meglio, il cui codice di C, C, cioè la formula aritmetizzata di C, è questa cosa qui che ho scritto fra queste parentesi. Ok? Quindi l'idea è che in più se l'insieme di assiomi della teoria geometrica è finito, come è il caso degli assiomi della geometria proiettiva, beh, si può allora esprimere la coerenza della teoria G, grazie alla formula seguenza, no? Che dice che per ogni X non vale la relazione che dice che X è una dimostrazione, o meglio, è il codice di una dimostrazione della negazione degli assiomi, della congiunzione degli assiomi. Ok? Questo è possibile perché, sono in logica del primo ordine, se X, se A, X, G è finito, posso prendere la congiunzione, mettergli una negazione davanti, ho una nuova formula e la posso poi codificare. La questione diventa allora quella di mostrare che questa formula, quantificata universalmente, è derivabile in aritmetica e più precisamente, beh, in quella parte dell'aritmetica, che è l'aritmetica, diciamo, finitaria, che di solito viene identificata in letteratura con PRA, l'aritmetica ricossiva primitiva. Ok? Quindi, vedete, si può fare questa, come dire, tentativa di collegare, diciamo, la geometria proiettiva a questioni di teoria della dimostrazione, usando come ponte la questione della coerenza. E la questione della coerenza viene dal fatto di dover giustificare l'uso di metodi ideali. Quindi, secondo una tale ricostruzione, la teoria della dimostrazione di Hilbert è usata qui in senso riduttivo. Non solo il suo scopo si riduce alla ricerca di una soluzione al problema della coerenza, ma una tale soluzione deve essere ottenuta riducendo la matematica a una sua parte sicura, quella dell'aritmetica, o se volette, dell'aritmetica finitaria, come per esempio l'aritmetica ricossiva primitiva. Ma, come nota Pravitz, lo studio delle dimostrazioni è qui solo uno strumento per ottenere una tale riduzione. Cioè, qual è l'idea? L'idea è che per effettuare una tale riduzione ciò che conta è solamente l'esistenza di una dimostrazione, non la struttura della dimostrazione, più precisamente. È sufficiente sapere che quando si ha una dimostrazione si ha una sequenza finita di formule, perché questo mi serve per poi fare il mio codaggio. Ma non è necessario sapere quali sono queste formule, né come questa sequenza è stata veramente ottenuta. Ciò che conta è quindi ciò che è dimostrabile, ma non come viene dimostrato. Ritorno su questo punto dopo, più tardi. Ora, quello che mi interessa e quello che voglio fare nel proseguo della presentazione è che mostrare che mentre in Hilbert la connessione fra geometria proiettiva e teoria della dimostrazione rimane essenzialmente implicita, scusatemi, e mediata proprio dalla questione della coerenza, in Gensel tale connessione è stabilita in maniera invece esplicita. Inoltre, come cercherò di mostrare, il punto di vista di Gensel è assai differente da quello di Hilbert rispetto alla maniera di intendere che cos'è la teoria della dimostrazione. Allora, poggerò qui la mia analisi su due soli testi pubblicati nei quali, almeno a mia conoscenza, Gensel parla esplicitamente di geometria proiettiva. Uno è il testo sulla coerenza dell'aritmetica elementare del 36, quello in cui, diciamo, la prima dimostrazione di coerenza dell'aritmetica pubblicata. E il secondo è lo stato presente della ricerca sui fondamenti della matematica, che è un testo del 38. In realtà, qui ho messo una nota perché vuol dire in gioventù, in realtà, quando Gensel era in realtà donescente, aveva 13 anni, credo, all'epoca, lui aveva già iniziato a interessarsi di questioni di geometria e aveva anche dimostrato un risultato di geometria connesso al cosiddetto appunto di Steiner o di Fermat. Adesso in letteratura ci sono vari nomi per questo punto. Però, diciamo, è intanto un testo non pubblicato e... Però volevo menzionare, no, che ci sono altri testi in cui Gensel ha scritto di geometria, ma qui mi interesso a quelli pubblicati, ok? E quelli che almeno io conosco. Poi non ho guardato tutti i testi non pubblicati o altro. C'è una vasta letteratura nel momento su Gensel, ma questi sono almeno a mia conoscenza. No, citavo questo testo, un piccola parentesi, di Gensel non pubblicato, perché se fate una ricerca sul web, su Gensel and Geometry, cadete subito su un testo di Smorinsky, ma il testo di Smorinsky, che si trova poi stato pubblicato nella versione inglese del testo di Menzel Trott, no, sulla biografia di Gensel. In realtà in quel testo Smorinsky parla solo proprio di questo risultato giovanile di Gensel e non delle questioni di cui vi sto parlando. Ok, piccola parentesi. Continuo. Consideriamo innanzitutto la maniera nella quale Gensel caratterizza la teoria della dimostrazione nel suo articolo del 36. Lui dice l'affermazione che una teoria matematica è coerente rappresenta una proposizione sulle dimostrazioni possibili all'interno della teoria. Essa dice che nessuna di queste dimostrazioni porta a una contraddizione. Se si vuole quindi provare la coerenza, bisogna fare delle dimostrazioni possibili all'interno di una teoria, gli oggetti di una nuova metateoria. La teoria che ha come oggetti delle dimostrazioni matematiche arbitrarie è chiamata teoria della dimostrazione o metamatematica. Ora, da una parte qui, questa caratterizzazione sembra essere molto vicina alla concezione riduzionista di Hilbert che abbiamo appena visto, in quanto Gensel connette in maniera esplicita la teoria della dimostrazione con la questione della coerenza. D'altra parte, tuttavia, quando Gensel dice che gli oggetti di studio della teoria della dimostrazione sono delle dimostrazioni matematiche arbitrarie, egli sembra aprire la strada verso un punto di vista più generale, dove le dimostrazioni sono studiate in quanto tali, cioè a pieno titolo, senza che alcuna riduzione o restrizione sia imposta sui metodi usati per studiare, per esempio i metodi finitisti. Consideriamo ora la maniera invece in cui Gensel parla della geometria proiettiva nell'articolo del 38. Come Hilbert, anche egli considera che la geometria proiettiva riposa sull'introduzione di metodi ideali o degli elementi ideali. Tuttavia, egli sembra considerare che non sia sempre necessario fornire una dimostrazione di coerenza per giustificare l'uso di questi metodi ideali. E gli dice mi sembra che certi concetti intuizionistici fondamentali, per esempio il concetto di esistenza il concetto di numero reale, siano già a rigore degli elementi ideali. Ma questo può rimanere controverso, è difficile da discutere e non è così importante. In ogni caso, ciò non significherebbe che l'applicazione di tali nozioni richieda anche una dimostrazione di coerenza. Dopotutto, le si applica solo restando sempre consapevoli del loro preciso senso costruttivo. La stessa cosa la si ha nella geometria proiettiva con i punti impropri. Qui Gensel suggerisce quindi l'idea che la connessione fra geometria proiettiva e teoria della dimostrazione non sia da stabilirsi necessariamente via la questione della coerenza. Commento un attimo in più questo passaggio, che non è facilissimo. Per come lo capisco, Gensel sta dicendo che alcuni nozioni, concetti intuizionistici, come quelli di esistenza o di numero reale. Cioè, se prendiamo la nozione di esistenza o di numero reale, si tratta di nozioni che hanno a che fare potenzialmente con domini infiniti. Parlo di un'esistenza su un dominio infinito e il numero reale usa nos, sequenze o serie infinite di razionali. E per esprimerle passiamo anche via una qualche formalizzazione, in particolare una formalizzazione, un linguaggio logico. L'esistenza usiamo un certo tipo di quantificatore, nella definizione di numero reale usiamo, tra l'altro, delle alternanze di quantificatori. Per ogni esiste. Ma lui sta dicendo che in questo senso sembrano quindi elementi ideali, hanno a che fare con l'infinito e con la formalizzazione. Questo è qualcosa che non abbiamo discusso molto prima in Hilbert, ma chiaramente in Hilbert l'introduzione dei metodi ideali va di conserva, va di pari passo all'uso di metodi formali. Ma Hilbert, ma Gensel qui sta dicendo, ok, sono forse degli elementi ideali, ma non per questo dobbiamo, per giustificarli, dare delle dimostrazioni di coerenza. In fin dei conti li giustifichiamo dicendo solo, beh, sappiamo da intuizionisti che possiamo sempre analizzarli in termine di qualcosa che non è né formale e che è legato a una qualche nozione di costruzione, cioè a delle costruzioni più primi, a delle, pardon, dei concetti più primitivi che sono legati a delle operazioni di base che un matematico ideale fa. Cioè l'idea di esistenza è legata all'idea di un metodo che cerca passo passo l'estrazione di un testimone, dal dominio, e il numero reale, anche quello, è legato a un'azione di costruzione che fa, per esempio, il matematico ideale quando costruisce delle sequenze di scelta, delle choice sequences, ok? Quindi l'idea è che per giustificarli dobbiamo in realtà andare solo a analizzarli e analizzarli in termini di costruzioni, no? Che sono gli elementi primitivi di base per un intuizionista. E lui sembra dire, beh, in geometria proiettiva facciamo uguale, non dobbiamo andare a dare una dimostrazione di coerenza per giustificare l'uso di metodi degli elementi ideali. Possiamo, può essere, avere un'altra analisi, che è un'analisi in termini di che costruzioni facciamo per introdurre questi elementi, ok? Quindi, ma la cosa che mi interessa qui è che Gensel sembra quindi slegare la giustificazione degli elementi ideali dall'uso di una dimostrazione di coerenza. In realtà, secondo Gensel, quel che garantisce la connessione, quindi fra geometria proiettiva e teoria della dimostrazione, non è tanto la questione della coerenza, ma è proprio il principio di dualità. Lui lo dice in maniera esplicita. Un esempio di teorema della teoria della dimostrazione è il principio di dualità in geometria proiettiva. Per Gensel, il principio di dualità ha quindi una portata teoretico-dimostrativa. Egli sembra quindi discostarsi, discostarsi dalla lettura che dà Hilbert di questo stesso principio nel carteggio con Frege, la quale sembra invece avere un gusto più modelteoretico, come abbiamo visto. E più precisamente Gensel considera il principio di dualità come un teorema che dice qualcosa delle dimostrazioni della geometria proiettiva e che dice qualcosa in particolare sulla loro struttura. Ok, per meglio capire il punto di vista di Gensel, consideriamo quel che egli dice a proposito della maniera in cui la validità del principio di dualità è dimostrata. Lui dice, il principio di dualità è giustificato così. Gli assiomi della geometria proiettiva del piano sono tali che la trasformazione di un assioma per dualità produce un nuovo assioma. Per qualsiasi teorema, perdon scusatemi, su un qualsiasi teorema è stato allora derivato da questi assiomi, si può sostituire in tutta la dimostrazione la parola punto con linea, la parola linea con punto e ottenere così una dimostrazione del teorema duale. Bene, nel seguito cercherò di esplicitare i dettagli che stanno dietro questo passo. E per far questo mi ispiro in realtà a una presentazione assiomatica della geometria proiettiva che si trova in un testo recente di Borson. Borson per chi non lo conosce in realtà nasce come un teorico delle categorie. Insomma è un bel testo abbastanza recente. Uso lui perché mi sembra molto chiaro. Ok, iniziamo a tentare di spiegare un po' meglio le cose. Un piano proiettivo, definiamo un piano proiettivo, diciamo che un piano proiettivo è formato da due insiemi disgiunti di elementi, l'insieme dei punti e l'insieme delle linee. Ed è una relazione binaria simmetrica di incidenza. Perché dico simmetrica? Perché per me è una relazione che vale allo stesso tempo fra punti e linee e fra linee e punti. Cioè abbiamo una relazione che dice un punto è incidente con una linea, ma è la stessa cosa che dire che la linea è incidente col punto. Lo faccio per semplicità, avrei potuto usare due primitivi, cioè un punto giace su una linea e una linea interseca un punto, però insomma mi crea solo più lavoro da fare invece con la nozione di incidenza più semplice. Ora, prendiamo una teoria che la chiamiamo A, della geometria proiettiva piana, che è assomatizzata in questa maniera. Cioè che è assomatizzata con tre e con quattro assiomi. In realtà prendo qui un'assomatizzazione diciamo che corrisponde alla cosiddetta parte triviale della geometria proiettiva. Cioè è la parte in cui ho anche delle configurazioni, autorizzo configurazioni non troppo interessanti. In realtà ci sono altre assomatizzazioni, no? In cui magari vi aggiungete proprio degli assiomi specifici, come quello di Desargo, di Pappo, perché volete già delle configurazioni più ricche. Qui prendo la parte triviale. Allora, ho quattro assiomi. Il primo dice esistono almeno tre punti distinti non incidenti con la stessa linea. Ogni linea incidente con almeno tre punti. Per ogni due punti distinte esiste esattamente una linea incidente con essi. E per due linee distinte esiste almeno un punto incidente con essi. Ora, con questi quattro assiomi si può dimostrare le cose seguenti. Si può mostrare che se prendete A1 e A3, i due implicano A1 star, cioè che è A1 star il duale di A1. Che è il duale di A1? E esistono esattamente, e almeno, scusatemi, tre linee distinte non incidenti con lo stesso punto. A2 e A1 implicano il duale di A2 e A4 e A3 implicano il duale di A3. Ok? Ora, visto che abbiamo questa implicazione, potete dire, ma allora non è che posso darmi una nuova assiomatizzazione della mia geometria proiettiva, ridondante, cioè in cui gli assomi non sono necessariamente indipendenti, e che chiamiamo P. Com'è questa assiomatizzazione? Beh, è prendere ogni volta un assioma e il suo duale. Cioè, esistono almeno tre punti distinti non incidenti con la stessa linea e prendere poi il suo duale. P1 corrispondeva A1 prima, ok? Adesso lo chiamo P1 e prendo il suo duale. Poi ho P2 che corrispondeva A2 e prendo adesso il suo duale. E poi ho P3 che corrispondeva A3 e prendo adesso il suo duale, perché avevamo visto che lo potevamo ottenere, ok? Bene, ora che abbiamo questa nuova assiomatizzazione, possiamo pensare a come dimostrare la validità del principio di dualità. E l'idea è data dall'argomento seguente. Consideriamo una dimostrazione P in questa assiomatizzazione, no? Di un teorema A della geometria proiettiva piano. Per ottenere A, beh, abbiamo usato un certo insieme finito di assiomi di P, ok? E chiamiamo questo insieme di assiomi gamma. Possiamo allora ottenere una dimostrazione P star o P duale, insieme a questa assiomatizzazione, del duale di A, facendo cosa? Beh, rimpiazzando ogni assioma di gamma con il suo duale e scambiando poi la parola appunto e con la parola linea e viceversa lungo tutta la dimostrazione P. Questa sembra molto simile all'idea che ci ha dato prima Genze. Anche se Genze non era stato esplicito sul tipo di assiomatizzazione da usare. Ora, l'argomento precedente consiste in cosa? Beh, nella specificazione di un'operazione che eseguiamo sulle dimostrazioni della geometria proiettiva. Tale operazione prende una dimostrazione P di un teorema A e la trasforma in una dimostrazione P star del teorema duale di A. Come dice Genze quindi questa giustificazione appartiene ovviamente alla teoria della dimostrazione perché ha come oggetto la dimostrazione di un teorema. Tuttavia alcune righe dopo Genze nota che si ha qui la sensazione che la dimostrazione del principio di dualità non sia una dimostrazione veramente rigorosa. Per renderla tale sarebbe necessaria la formalizzazione esatta degli enunciati e delle dimostrazioni nel dominio nel campo della geometria proiettiva. Cos'è l'idea di Genze? Genze dice le precedenti giustificazioni del principio di dualità sembra in effetti poggiare su due assunti impliciti. Uno è che la dimostrazione P deve procedere dagli assomi gamma alla conclusione A per mezzo di passi puramente logici. Il perché è che una dimostrazione o deduzione puramente logica garantisce infatti di non introdurre alcuna proprietà dei concetti primitivi punto linea incidenza che non sia già stata introdotta negli assomi. E la seconda è che l'operazione di sostituzione del termine punto col termine linea e viceversa non modifica la struttura logica degli assomi e della dimostrazione. Questi due aspetti in realtà sono già discussi da qualcuno come Pascio, Pascio li aveva già discussi, in relazione al rigoroso metodo deduttivo che deve essere sviluppato in connessione con la somatizzazione della geometria proiettiva. E anche qualcuno come Heinrich Schultz, che intrattenne delle relazioni scientifiche con Genze, connette i due precedenti aspetti proprio con l'aspetto della formalizzazione. Qui in realtà non leggo direttamente a Schultz, leggo la recensione che Bernays fa dell'articolo di Schultz, perché mi pare perfettamente chiaro quello che Bernays dice. Per quel che riguarda la dimostrazione del principio di dualità è essenziale notare che l'automorfismo, quindi questa operazione, che operiamo sugli assomi della geometria proiettiva dalla trasformazione duale dei concetti primitivi, si estende alle conseguenze derivate dagli assomi mediante deduzione logica, in virtù del fatto che la deduzione logica non fa riferimento ad altre proprietà dei concetti primitivi che quelle formulate negli assomi. Tuttavia, per rendere veramente evidente e non semplicemente plausibile questo carattere della deduzione logica, è necessario esprimere in maniera esplicita i processi dai quali è costituito e questo significa formalizzare la deduzione logica. Quindi vedete qui prima in Hilbert abbiamo formalizzato le dimostrazioni, ma perché volevamo poi avere degli oggetti che permettevano una codifica, una codifica nell'aritmetica. Qui la formalizzazione ci serve invece per poter definire in maniera rigorosa le trasformazioni da prova a prova, da dimostrazione a dimostrazione e poter dire, e lo vediamo in un secondo, che cosa questa dimostrazione preserva, che tipo di struttura dimostrativa preserva. Quindi quello che facciamo, che voglio fare adesso è formalizzare un po' la geometria proiettiva, ok? Consideriamo un linguaggio del primo ordine, con identità e con due sorte di variabili. Un insieme P di variabili per punti, che noto con A, B, C, e un insieme lambda di variabili per linee, L, M. E in più una relazione binaria di incidenza, la noto qui con E invece che con I, ma solo perché dopo mi serviva in latex, mettere una sbarra su E e quindi E funzionava bene e non tanto. Comunque l'idea è che abbiamo che se la leggiamo così U e V, vuol dire che U appartiene all'insieme dei punti e V a quelle o delle linee, oppure che U appartiene alle linee e V ai punti, no? L'abbiamo detto, è una relazione simmetrica e infatti abbiamo che U appartiene a V se solo se V appartiene ok? Insomma qui seguo comunque una cosa che qualcuno come Heiting fa. Heiting ha un libro sulla geometria proiettiva e sceglie esattamente questa presentazione e anche Cogseter. Cogseter non formalizza le cose così, però insomma prende proprio un linguaggio che in fin dei conti è un linguaggio a due sorte e ha questa relazione di incidenza. E consideriamo ora la formalizzazione della somma P1 che abbiamo visto prima, cioè la non collinearità fra punti. La somma ha questa forma logica, cioè ci dice esistono tre punti, tali per cui per ogni linea i punti sono distinti e o il punto A1 non sta su L, non è incidente con Ello, o il punto A2 non è incidente con Ello e il punto A3 non è incidente con Ello. Ora invece di leggerla così, internalizzo va alla negazione, insomma metto la barra invece, per semplicità, perché dopo devo scrivere delle dimostrazioni, quindi insomma prendo la notazione in fissa, piuttosto che prefissa. Quello che vogliamo provare ora è che a partire da questa somma è possibile derivare un fatto elementare come quello che dice che per ogni linea esiste un punto non incidente con essa, non un punto esterno alla linea. Questo per esempio è un esercizio che Cogseter stesso nel suo libro Icino, Projective Geometry, chiede all'esercizio 1.2. Ora per fare questo, in realtà nella dimostrazione non ci serve tanto la condizione che i tre punti sono distinti, non entra mai in gioco. Quindi se la lasciamo cadere, abbiamo una formula un po' più facile da scrivere e ci va ad aiutare. E ok, ora se formalizziamo i passi logico-deduttivi di una dimostrazione usando la deduzione naturale, quindi do per scontato che tutti conoscono le regole della deduzione naturale, ma insomma in caso le commentiamo dopo, quello che otteniamo è la dimostrazione seguita. L'idea è di avere proprio, qui ho il mio assioma più 1, è un esistenziale, cosa faccio? Beh, devo eliminare, in realtà qui ho messo un passaggio, ma in realtà ci sono tre passaggi di eliminazione esistenziale, però se li mettevo tutti la prova non mi stava più, no? Nelle slide, quindi compatifico un po', compatto un po' le cose. Ho dei passaggi di eliminazione esistenziale, mi danno una formula universale, questa faccio l'eliminazione universale, trovo una formula disgiuntiva e anche qui devo compattare un po' di disgiunzioni e eliminazione, ok? Ma quello che è importante è che trovo un enunciato del tipo esistenziale, esiste un punto esterno alla linea, ok? E quindi la condizione di eigenvariable sulla regola di eliminazione esistenziale è soddisfazza, posso quindi applicare la mia eliminazione esistenziale e poi rientroduco il per ogni e quindi trovo che per ogni linea esiste un punto esterno alla linea, non incidente con l'esistenziale. Ora, cosa succede se sostituisco più uno con il suo duale e scambio tutte le variabili, no? Grazie a una biiezione fra l'insieme P e l'insieme lambda. Beh, succede che posso trasformare la dimostrazione che ho qui in un'altra che è la dimostrazione duale, ma questa dimostrazione duale, se guardiamo bene, certo ho usato adesso la sioma duale qui, però la sioma ha esattamente la stessa struttura logica della sioma più uno, la sioma duale più uno. E la dimostrazione ha esattamente le stesse regole, con la stessa ordine. Cioè più uno, quindi come dicevo, la sioma più uno e la sioma più uno star hanno la stessa forma logica. E poiché l'ordine di applicazione delle regole logiche è lo stesso nelle due dimostrazioni, beh possiamo dire che le due dimostrazioni hanno anche la stessa struttura logica. Quindi dal punto di vista logico, le due dimostrazioni le possiamo identificare. Sono la stessa dimostrazione, se guardo i passaggi logici. Quindi la cosa ora importante è che una condizione necessaria per l'identificazione dal punto di vista logico di queste due dimostrazioni è di lavorare con un sistema assiomatico ridondante. Se si lavorasse con un sistema assiomatico non ridondante, come il primo che ho presentato A, si potrebbe certo avere ancora una trasformazione, trasformare la dimostrazione P di questa qui, no? Quella prima che ho dato, questa prima dimostrazione del fatto che per ogni linea esiste un punto non incidente con questa linea, in una dimostrazione, chiamiamola adesso P' del duale, cioè questa formula qui. Tuttavia questa dimostrazione P' avrebbe una struttura logica totalmente differente da P. Perché? Perché quando passiamo al sistema assiomatico A, cioè il sistema non ridondante, la dimostrazione P considerata sopra resta la stessa. Allora, poiché l'assioma A1 corrisponde con l'assioma P1. Tuttavia, quando sostituiamo A1 con il suo duale, e abbiamo visto prima il duale di A1 nel sistema assiomatico A non è un assioma, è un teorema. Quindi dovremmo, quando sostituiamo ad A1 il suo duale, non stiamo più sostituendo un assioma con un assioma, ma stiamo sostituendo un assioma con un teorema. Dobbiamo quindi aggiungere sopra il duale di A1 una dimostrazione P2. E quindi è una dimostrazione che in realtà parte dall'assioma A1 stesso e dall'assioma A3. Quindi la nuova prova P' che forma A ha questa forma qui, cioè non è più la prova questa qui, ma è una prova in cui gli ho aggiunto un pezzo qua sopra, la dimostrazione P2. Quindi la struttura logica diventa totalmente differente, proprio perché è una dimostrazione che ha più passaggi logici, ok? E che tra l'altro ha un nuovo assioma A3 adesso. Qui lavorare con il sistema assiomatico A è sufficiente se si considera il principio di dualità come un principio che riguarda il solo piano dell'equidimostrabilità, cioè il solo fatto che un enunciato A e il suo duale sono entrambi i teoremi della geometria collettiva. Tuttavia se consideriamo l'equidimostrabilità come il risultato dell'applicazione di una particolare trasformazione che lascia invariata la struttura logica della dimostrazione di A e del suo duale, e allora dobbiamo lavorare con un sistema ridondante. Cioè in altre parole, quando consideriamo un sistema come P, il principio di dualità non è più solo un principio che porta alla preservazione della dimostrabilità, ma è un principio che porta alla preservazione della struttura logica delle dimostrazioni. Quindi, come detto, è in base a tale preservazione che possiamo identificare la dimostrazione di A con quella del suo duale. Ed inoltre, proprio in base a questa identificazione della struttura logica, che il principio di dualità è spesso considerato come fecondo dal punto di vista della pratica matematica. Questo è qualcosa che Cauxeter dice in maniera esplicita, dice una delle caratteristiche le più attrattive della geometria proiettiva è la sua simmetria e è la simmetria e l'economia di cui è dotata grazie al principio di dualità. 50 dimostrazioni dettagliate possono bastare per stabilire fino a 100 teoremi. E possono bastare se quello che è preservato è la struttura logica. Se invece preserviamo solo la dimostrabilità, ma non anche la maniera in cui dimostriamo un teorema, allora non posso più usare la stessa dimostrazione. Quindi questo vale se preserviamo la stessa struttura dimostrativa. Ora, interpretare la lettura che Genzel fa del principio di dualità nei termini di preservazione di una struttura dimostrativa, invece che di sola preservazione di dimostrabilità, beh questo va nella direzione, mi sembra, di un'osservazione che Kreisel fa, secondo cui è possibile trovare in Genzel, cito, una teoria delle dimostrazioni, dove le dimostrazioni sono i principali oggetti di studio e non un semplice strumento, cioè un strumento riduttivo. Al contrario della Bay-Weiss theory di Hilbert, cioè la teoria della dimostrazione dei correnti testi di logica matematica, diceva all'epoca Kreisel. Ora, un aspetto cruciale per lo sviluppo di questa teoria delle dimostrazioni, nel senso Kreiseliano, è l'uso della deduzione naturale. Usando la deduzione naturale è infatti possibile separare la parte puramente logica di una dimostrazione che corrisponde alle regole di inferenza, dalla parte non propriamente logica che corrisponde agli assomi propri della teoria. E questo è essenziale se si vuole caratterizzare il principio di dualità come un principio riguardante la preservazione della struttura logica della dimostrazione. Scusa Alberto, c'è una cosa che non capisco. Hai detto, usando la deduzione naturale è possibile separare la parte puramente logica di una dimostrazione non è corrispondente alle regole di inferenza, la parte non propriamente logica, però sostanzialmente nella deduzione naturale gli assomi non ci sono. Allora, nella deduzione naturale alla Gensen è proprio perché lui presenta un sistema solo per, diciamo, delle regole di deduzione naturale per sistemi puramente logici. Uno può sempre pensare di aggiungere alla deduzione naturale degli assomi. Cioè, quello che sto dicendo è una cosa, magari ne possiamo riparlare dopo. È vero che uno potrebbe per esempio pensare di trasformare gli assomi in regole di inferenza, però a quel punto lì si fa entrare dentro la parte dimostrativa una parte logica, no? Si mischiano assomi logici e assomi matematici. Cioè, scusami, pardon, regole logiche e regole matematiche. E allora lì è un po' più difficile capire la trasformazione che si fa, perché devo anche trasformare per dualità le regole. Allora sì, forse ho una maniera di preservare la struttura anche lì, però mi pare molto più pulito pensare che, beh, cambio gli assomi e gli assomi tanto sto cambiando solo gli assomi con i suoi duali. E poi il resto è esattamente lo stesso. Va bene come risposta, se no ne ritorniamo dopo, perché è un punto effettivamente... No, era semplicemente che non capivo, no? No, no. E mi sembrava che va a pensare le cose così nella direzione del commento che Bernays fa e che Schultz fanno. Cioè di dire, prendo gli assomi e poi usa solo deduzione logica. E questo lo posso far bene se ho una separazione, no? Fra assioma, quindi una formula, e il resto regola. Ok, quindi il sistema... Questo è quello che volevo dire. Ora, alcune questioni che ho aperte e che sulle quali ancora non ho una risposta, è un po' la conclusione del mio... di questa presentazione. Ora, i sistemi assomatici A e P che ho usato per ricostruire, no? L'argomento di Genset, traggono qui ispirazione della presentazione, come vi ho detto, che ho... che è fatta per esempio in Borsò, anche se Borsò non parla di Genset. Però ha questi due sistemi che lui usa, no? E mi sembrano ben calibrati per, come dire, costruire l'argomento che volevo presentare. Però uno può chiedersi, beh, vabbè, ma qual è la somatizzazione che Genset aveva veramente in mente? Uno potrebbe dire, beh, forse non era poi così differente da quella considerata qui, cioè forse aveva in mente delle somatizzazioni molto simili a quella... alla somatizzazione P che ho usato qui. Fin dei conti è una presentazione relativamente standard. Abbiamo visto, inoltre, che Genset richiede una formalizzazione esatta degli enunciati delle dimostrazioni della proiettiva, della geometria proiettiva. Aveva qui in mente qualche esempio specifico, Genset? Beh, qui la questione è più intricata, secondo me. Perché sappiamo che Scholem aveva proposto una formalizzazione degli assiomi della geometria proiettiva e questa formalizzazione era stata ripresa da Genset nella sua... da Ketton, scusate, nella sua tesi di dottorato. E sappiamo anche che fra il 38 e il 39 Ketton studiò con Genset a Goetting. Tuttavia, come nota Jan von Platt nel suo libro... come si chiama? E Formal Machinery Works. Adesso non mi ricordo più il titolo esatto. Libro del 2017. Quanto del lavoro di Ketton emani dai suggerimenti di Genset rimane sconosciuto perché non è stata trovata alcuna corrispondenza? Quindi sono delle ipotesi che possiamo fare. Ora, la formalizzazione della geometria proiettiva di Scholem e Ketton, quello che è interessante è che riposa su un linguaggio multisortale, quindi come quello che ho usato io, e che consiste anch'essa in un sistema ridondante di assiomi. Cioè, ogni assioma è preso con il suo duale. Quindi, se Genset ne ha in testa questo, è molto simile a quello che stiamo guardando qui. Tuttavia, la somatizzazione usata da Scholem e Ketton è un po' differente dalla mia, nel senso particolare che non contiene l'usuale assioma di collinearità, quello che ho usato io, ma una versione un po' differente. Cioè, praticamente contiene più che più che altro il teorema che io ho dimostrato. E se è così, beh, allora se Genset aveva in testa la formalizzazione di Scholem e Ketton, allora la ricostruzione o l'esempio che ho usato per ricostruire l'argomento di Genset, beh, non è allora proprio fedele, perché per lui quello sarebbe già un assioma. Ma insomma, siamo molto vicini. Va anche notata un'altra cosa, sulla quale io sono stato un po', come dire, invece, un po' faccilone su una cosa, è nella mia dimostrazione che Scholem introdusse anche un assioma per garantire l'unicità di linee e punti incidenti, che è questo qui. Cioè, dice, se avete un punto che è incidente con una linea e lo stesso punto è incidente con un'altra linea, e un punto è incidente con questa linea e un altro punto è incidente con M, allora o i due punti sono uguali, sono lo stesso, o le due linee sono le stesse. Ora, questo qui, questa assioma qui, è necessario se si vuole formalizzare con precisione, per esempio, la derivazione del duale di A1 a partire da A1 e A3, quello che io prima raccontavo nella derivazione, no? Che bisogna attaccare in caso nel sistema A. Quindi quella prima ho messo i puntini, in realtà se la si vuole far bene, non bastano gli assiomi A1 e A3, ci vuole anche questo extra assioma, se si vogliono fare le cose logicamente come serve, si deve. Un'altra questione aperta. L'analisi teoretico dimostrativa del principio di dualità che ho presentato qui riposa sull'uso di un sistema ridondante di assiomi, cioè di assiomi che non sono deduttivamente indipendenti l'uno dall'altro. Ora, l'indipendenza però di solito è considerata come una caratteristica essenziale, no? Dei sistemi assomatici, potrete dirmi. E potrete dirmi, beh, ma Hilbert stesso, per esempio nella prima versione dei fondamenti della geometria, lo dice in maniera esplicita, dice la presente ricerca è un nuovo tentativo di stabilire un sistema semplice e completo di assiomi indipendenti per la geometria proiettiva. E allora com'è la questione? Beh, la questione è che si potrebbe pensare che in realtà per Hilbert la questione dell'indipendenza riguarda le relazioni fra differenti gruppi di assiomi, piuttosto che le relazioni fra singoli assiomi. Cioè, Hilbert per esempio, mostrare che, per Hilbert, mostrare che i gruppi di assiomi, specifico gruppi, sono mutualmente indipendenti, gli permette di considerare il suo sistema di geometria come un quadro generale a partire dal quale differenti altre geometrie possono essere ottenute. Cioè, per esempio, uno prende la geometria del primo gruppo di assiomi alla geometria dell'incidenza. Si aggiunge poi il gruppo di assiomi del parallelismo e si ottiene la geometria fine e poi si può ottenere quella assoluta se invece ci si lascia cadere questo e aggiungere gli altri assiomi. Insomma, Hilbert mi pare che ragioni per gruppi e quindi per lui l'indipendenza sia sui gruppi di assiomi invece che su i singoli assiomi. E questo per dire che anche in Hilbert, se invece si guardano gli assiomi singolarmente presi, beh già il suo sistema era ridondante. E questa è una cosa che per esempio Schur e Moore avevano notato. Quindi per dire che in realtà la ridondanza di un sistema assiomatico forse non è così strana come potrebbe sembrare a prima vista. E comunque quello che volevo mostrare era che qui gioca un ruolo essenziale per avere poi questa preservazione della struttura logica. Ecco, questo è quello che volevo raccontarvi e posso fermarmi qui. Grazie mille Alberto per questa bellissima lezione. Apriamo allora lo spazio per le domande, richieste di chiarimento. Potete scrivere nella chat o prendere direttamente la parola. allora Vincenzo, prego. Sì, grazie Alberto, è veramente molto interessante quello che ci hai raccontato e avevo una serie di domande quasi tutte abbastanza estrinse che nel senso che non essendo un esperto di Gensen, più di tanto non posso entrare nel merito delle tue ipotesi e della tua ricostruzione del suo pensiero. Però ti butto lì un po' di riflessioni che mi sono venute in mente e poi tu poi vedi che cosa mi puoi rispondere. Allora la prima cosa che mi è venuta in mente appena hai iniziato a parlare è questo fenomeno che non c'entra niente con quello che hai detto che però è molto strano e ogni tanto ci penso. Vabbè, la scuola italiana fino all'ottocento, inizio del novecento, ha dato un contributo fondamentale alla geometria proiettiva e fino agli anni ottanta, fino agli anni ottanta, in tutti i corsi di laurea scientifici si faceva una tonnellata di geometria proiettiva. E come tu giustamente hai detto, appunto, hai avuto il bisogno di dire guardate la geometria proiettiva a cavallo della prima metà, cioè fino all'ottocento, in primi decenni del novecento era considerata la geometria moderna, oggi non la considera più nessuno e infatti poi è sparita. Oggi in nessun corso scientifico si fa più di geometria proiettiva. E questo mi sembra una cosa su cui riflettere anche dal punto di vista didattico formativo cioè perché gli studenti che negli anni ottanta, gli ingegneri fisici che negli anni ottanta si sparavano il manuale di geometria proiettiva non ne potevano più di questo, è evidente questo. Però questo non so quanto sia... non lo so, cioè questa è una cosa su cui penso che dal punto di vista, diciamo, di storia della didattica, della matematica e della scienza in generale meriterebbe un po' di attenzione. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mezzo. La seconda è questa, cioè mi sembra che tu abbia, vabbè, diciamo, il contributo di Gensen che è immenso dal punto di vista culturale e come hai fatto vedere tu molto bene è quello di aver tematizzato il concetto di costrazione, no? Cioè mentre tutti quegli altri, no? Tu l'hai detto più volte, questo va scommiato con forza, mentre tutti quelli che giravano ritorno a Hilbert, la dimostrazione era qualcosa di ovvio, era uno strumento sostanzialmente che serviva per ripensare la matematica nei loro termini fintistici, invece per lui la dimostrazione è il problema, no? Tanto che appunto la ridondanza, mentre anche per i polacchi, no? Che da questo punto di vista sono influenzati da quel modo di guardare, la ridondanza è un peccato mortale e invece se tu vuoi capire che cosa è la dimostrazione, della ridondanza non te ne frega niente sostanzialmente, cioè quello che mi sembra che uno dei messaggi importanti che hai dato è questo, no? Vogliamo capire che cosa è la dimostrazione? Beh, la ridondanza non è più un problema per noi e questo tutto sommato ha tendenzialmente vinto da un punto di vista didattico, da un punto di vista filosofico, no? Cioè credo che se la geometria proiettiva ha perso, come dicevamo prima, invece la ridondanza dell'insegnamento della logica ha vinto, cioè quando è stata insegnata, torniamo sempre agli anni Ottanta, mi è stata insegnata me la logica, Hilbert spadroneggiava e Lemmon era l'unico manuale di sapore genseniano che circolava ed era minoritario, adesso è esattamente il contrario, nessuno insegna la logica partendo da Hilbert e tutti la insegnano partendo da Gensen, no? Quindi facendo attenzione e questo anche filosoficamente nel senso che effettivamente che cos'è una dimostrazione è una domanda profonda che ci stiamo ponendo tutti. Ecco, qui vengo a un'altra riflessione che volevo sentire da te. Allora, che cos'è una dimostrazione? Gensen ha detto cose fondamentali e tu le hai esemplificate nel caso della geometria proiettiva con il principio di dualità, che è di fatto, diciamo, un piccolo strumento, perché in realtà non è che tutte le dimostrazioni possono essere ricondotte a questo, però è un piccolo strumento per capire meglio che cos'è una dimostrazione. Allora io mi chiedevo non ci sarebbe un gran bisogno in questo momento di un libro è una domanda che ho già fatto tante volte a Pierluigi, di un libro che facesse un po' il punto, perché tanti programmi di ricerca in cui sviluppo la tematica oggi stanno lavorando su che cos'è una dimostrazione, ma se io non soltanto mi chiedesse che cosa posso leggere per avere un'idea di questa tematica, posso indicargli sette, otto libri sui diversi approcci, ma se io avessi bisogno di dire vai, guarda, inizia da qua e vedi qui c'è un po' uno che fa il punto della situazione. Ecco, questo faccio fatica e non so se tu hai qualche indicazione anche da darci o se pensi che ci sia questa raccuna. Ultima cosa, mi farà di piacere sapere qualcosa anche da parte tua sulla tua opinione sulla vita di Gensen e sulla sua tragedia personale. Grazie. Grazie mille. Possiamo darci del tu, Vincenzo? Non ci siamo mai incontrati prima. Ah, sì, sì, assolutamente. Se non ti dispiace così la conversazione. Ti ringrazio tantissimo perché tocchi dei punti che effettivamente sono fondamentali. Io penso quello sull'insegnamento inizio punto per punto sull'insegnamento della geometria proiettiva è una cosa veramente interessante perché ci penso anche dal punto di vista io di insegnante che devo fare una didattica per i studenti anche di filosofia. E mi chiedo ma spesso, no? Noi insegniamo ed è bene che sia così molti corsi di algebra cose di questo tipo però raro vedere un corso di geometria proiettiva e però è vero che tecnicamente non è poi complicatissimo si potrebbe pensarlo anche perché fa venire fuori la questione anche del metodo osseomatico il metodo sintetico il non legame necessario con le questioni di misura che è tutta la tradizione di Most Out e queste mi sembrano delle cose fondamentali non solo ma come strumenti matematici ma anche concettuali perché si ha spesso troppo la tendenza di voler sempre ridurre le geometrie a delle cose su R sui reali e che sia matematicamente che filosoficamente è un punto di vista un po' un po' strano poi è vero che si possono fare tante belle cose su R però voglio dire è anche perdere di vista delle tradizioni nella storia della matematica importanti cioè sarebbe non capire tutto il lavoro ripeto di Most Out e e di Hilbert stesso perché in Hilbert tutta come tentavo di dire l'aritmetica dei segmenti è basata su quest'idea di beh non voglio usare R non voglio usare neanche l'assioma archimedeo e quindi l'idea anche di l'importanza di calibrare no i risultati rispetto ai teoremi che si vogliono dimostrare quindi questione di purezza di metodi o di altre cose e l'esempio della geometria proiettiva è un esempio magnifico quindi io sono il primo a dire e ci penso da un po' in realtà il mio collega ex collega adesso perché non è più da noi a Parigi 1 Andrew Arana aveva fatto un corso di geometria proiettiva anni fa da noi e non è sempre facile farlo passare agli studenti soprattutto di filosofia però sono totalmente d'accordo e in più senza contare voglio dire poi anche tutti gli aspetti tecnici che possono emergere e matematicamente interessanti da queste cose però sì sono d'accordo che in una formazione almeno per qualcuno che fa della logica matematica uno studente di logica matematica ha un bel corso di geometria proiettiva non sarebbe niente male e i libri ci sono voglio dire Cogset era piuttosto accessibile adesso c'è questo qui di Borso che a me piace molto seppure un po' talvolta un po' tecnico non si vede fatto proprio da qualcuno noi avevamo il Castelnuovo il Castelnuovo no ecco però sono bei testi anche testi anche che si leggono e che mi pare anche gli autori sono molto attenti a queste questioni anche di per noi essenziali di formalizzazione almeno di assiomatizzazione come assiomatizzo che primitivi prendo prendo il testo di Heiting sulla geometria proiettiva è magnifico se lo si guarda bene lui è elegantissimo nel cercare quali primitivi prendere o altro poi però e faccio una parentesi Heiting si accontenta della dualità come un teorema a livello della dimostrabilità e non a livello della preservazione della dimostrazione della struttura dimostrativa questo è molto è evidente perché lui prende una assiomatizzazione non ridondante per esempio mentre invece Cogsetter lui lo dice come nella citazione che dicevo lui vuole proprio che si abbia la stessa dimostrazione e quindi questa possa essere trasportata vengo alla tua seconda questione proprio sulle dimostrazioni sulla questione della dimostrazione in Hilbert in Gensen nella questione della ridondanza e anche questo è vero che quello che mi affascinava di tentare di dare questa ricostruzione di cosa aveva in testa Gensen quando dice beh ma il teorema di dualità è un teorema della teoria della dimostrazione e quindi dimostrare che c'è questa preservazione di una struttura dimostrativa e quindi pensare che la dimostrazione diventa un oggetto matematico ma un oggetto matematico in un senso direi forte cioè che ha le sue proprietà come delle proprietà strutturali e che voglio preservarle rispetto a delle trasformazioni e che è una cosa molto matematica no? che è più mi pare che l'idea di scuola ilbertiana che invece la dimostrazione beh in fin dei conti cos'è? è una qualche stringa cioè è una qualche struttura induttiva e quindi boom prendo la codifico come qualsiasi struttura induttiva e la trasformo in un naturale e poi ci lavoro e lì c'è un'idea di perdere anche no? delle proprietà perché la dimostrazione viene schiacciata sull'intero sul naturale quindi poco mi interessa che struttura abbia basta che sia una qualche struttura induttiva e nulla più e l'altra cosa è quella sulla ridondanza effettivamente come dici tu mi pare affascinante questo punto di dire ma guarda per tentare di preservare queste strutture dimostrative magari devo fare la concessione e dire beh ma allora gli assomi non devono essere necessariamente indipendenti e quindi di dire magari cedo da una parte ma riesco a vedere di più insomma e non essere dogmatici nelle cose no? di dire lascio cadere un dogma e vediamo che cosa però posso farci matematicamente e questo mi pare un punto estremamente interessante e anche poco discusso cioè nella letteratura sulla questione dell'indipendenza degli assomi sì c'è un po' come citavo non l'ho detto ma Corri ha un po' questa cosa che si interessa ma come la scuola libertiana guarda la ridondanza a che livello va guardato di singoli assomi o no e fa notare per esempio Corri che in Moore è molto esitante nell'articolo in cui dice sì c'è una ridondanza in Gilbert ma fin dei conti è veramente importante o no e c'è un po' un'esitazione no e anche quello mi sembra un capitolo di solito che si dà per acquisito no si dice devono essere indipendenti però perché ed è veramente così importante sul libro sul punto che fa un punto sulla teoria della dimostrazione è quello è un bel progetto secondo me è vero esistono tanti libri di teoria della dimostrazione no libri tecnici già esiste poco per esempio di libri di una questione simile ma non esattamente la stessa che è quella della chiamiamola proof theoretic semantics in italiano semantica teoretico dimostrativa già lì non c'è molto anche lì ci sono delle collezioni di articoli però non c'è qualcosa c'è un libro di Nissin Frances però che ha una posizione molto particolare e molto legata a un dibattito logico di filosofia della logica manca un mi pare effettivamente un lavoro in cui prenda seriamente questa nozione di dimostrazione e dire beh diventa un oggetto di studio e che tipo di oggetto di studio è? è già stato fatto dai matematici o perché noi filosofi della logica ce ne interessiamo e sono totalmente d'accordo manca un libro così e sarebbe bellissimo avere un libro così capire poi a che livello porlo no? cioè se un libro introduttivo o un libro anche perché è chiaro che secondo me può essere un bel libro introduttivo ma sul quale si prendono già delle posizioni forti perché una delle posizioni per esempio è proprio questa o bisognerebbe avere dei capitoli su che tipo di teoria della dimostrazione in quello si riprende questa questione fraviziana che fraviziana che fraviziano chiedeva negli anni settanta è una teoria della dimostrazione riduttivista o generale e cosa vuol dire di qual ci interessiamo e soprattutto a me quello che interessa è avere degli esempi in matematica e non ridurre sempre la questione a questa questione poi di proof theoretic semantics che ha un interesse per me maggiore però che si rischia di renderla sempre eccessivamente settoriale e sulla vita di Gensel no lì io non ho molto da dire nel senso che è chiaro che ci sono vari lavori sulla vita di Gensel per cui è l'unica cosa che a me viene da dire guardo il Gensel soprattutto autore la cosa che mi affascina sempre di questo Gensel seppure questi lavori forzati in prigionia è ancora capace di star lì sui suoi problemi matematici e questo è è più una sorta di quello non posso che averne una fascinazione no di qualcuno che tenta di estraniarsi da una situazione così difficile lavorando e continuando a produrre lavoro no Jan ha scritto molto di più su queste cose rinvio ai lavori di Jan soprattutto che è un'autorità in materia e che e che conosce i testi anche tutti gli inediti quindi ecco queste sono più o meno le mie risposte sì no poi scusa mi è venuto in mente se posso ricomplicare mi è venuto in mente anche una specie di di vendetta di Gensel no della delle reti neurali no nel senso che adesso noi abbiamo degli algoritmi cioè abbiamo dovuto abbandonare la programmazione logica abbiamo degli algoritmi che fanno delle cose ma non sappiamo come e che quindi in un certo senso ci vorrebbe un Gensel delle reti neurali non so come dire no no ma è vero è vero è vero in Gensel c'è questa analisi del dire sì non mi basta che ci sia una dimostrazione io voglio sapere come è fatta come posso manipolarla no e la cosa che io volevo far venire fuori in questo talk era una magari la dico così viene fuori adesso è noi siamo forse molto abituati a pensare alla teoria delle dimostrazioni di Gensel dove la manipolazione è la manipolazione rispetto alle relazioni di riduzione cut elimination eliminazione dei tagli riduzione dei detour quello che qui volevo mostrare è che forse ci sono altri tipi di manipolazione è vero che le manipolazioni di riduzione di eliminazione dei tagli sono molto più interessanti di quella che ho mostrato qui perché poi hanno delle connessioni con il punto di vista computazionale no carriar guarda altro però quello che volevo fare emergere era ci sono forse anche altre operazioni che uno può fare sulle prove magari più banali però restano operazioni sulle prove sempre degli invarianti ecco era per per rivenire la cosa scusa grazie c'è una domanda di Paolo a cui do il benvenuto nel nostro seminario ciao Paolo grazie ciao 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 Alberto ciao Paolo senti appunto la mia domanda era beh inoltre ti ringrazio per il seminario molto affascinante mi è piaciuto molto io ho potuto seguirlo solo in parte perché ero in viaggio quindi un po' l'ho tenuto in macchina non ho guardato tutte le spalle sapevo mi avevi detto no appunto la mia domanda era in realtà una domanda sull'ultima cosa che hai detto a me ha molto convinto anche molto entusiasmato questa tua idea di far vedere che se con Hilbert c'era una teoria della dimostrazione riduzionista con Gensen c'è una teoria della dimostrazione generale come la chiama Bravitz ora è vero però che diciamo questo c'è la teoria della dimostrazione riduzionista e quella generale hanno tante cose in comune e una di queste è proprio l'interesse per il teorema di normalizzazione per la deduzione naturale il teorema di eliminazione dei tagli per il calcolo dei seguenti quindi nel momento in cui tu sei per quanto tu sia ci siamo spostato diciamo dalla teoria riduzionista a quella più generale mi attendevo forse era una speranza che Gensen parlasse un po' di diciamo cut elimination per la geometria proiettiva ora la domanda che ti volevo fare è una domanda in realtà un po' sciocca perché non si può chiedere a un autore perché non ha detto una determinata cosa però c'è il sospetto mi viene che c'è il sospetto ho la sensazione che comunque sia una domanda non completamente stupida cioè come mai lui che era che era così dentro a queste questioni di analisi delle dimostrazioni quindi attraverso la cut elimination cioè perché non si è posto il problema di dimostrare la cut elimination diciamo o una qualche forma di teorema di normalizzazione nel caso della geometria proiettiva e tu mi puoi rispondere beh appunto perché quelle tecniche vengono usate nella teoria della dimostrazione riduzionista per sostanzialmente ottenere dei risultati di consistenza ma quello che ti ho fatto vedere è che in realtà Gensen aveva ben alti interessi e questa sarebbe una risposta del tutto legittima è però una risposta che a me non però io mi sono autodato quindi non so neanche però non è una risposta che mi lascia completamente diciamo convinto quindi secondo te perché c'è questo grande assente in queste considerazioni che insegnano sulla geometria proiettiva ah è una gran bella domanda non ho una vera risposta per questa cosa qui mi viene una prima risposta che va un po' nella direzione che già tu ti sei posto e ti sei personalmente dato alla risposta cioè è vero che quando guardi gli altri lavori che Gensen stava facendo sappiamo quello per esempio del tentativo di dimostrare la coerenza dell'analisi beh resta sempre qualcosa un po' in tradizione ilbertiana no? una dimostrazione di coerenza di nuovo certo con i metodi più più con dire dinamici no? ma del teoreste di riduzione piuttosto che invece l'epsilon calcolo anche se anche nell'epsilon calcolo voglio dire c'è un po' di metodi come dire stile eliminazione dei tagli o cose simili no? quello che fai quindi uno può dirsi beh ma forse da un punto di vista mi viene di dire beh ma perché una delle grandi domande era beh come do una fondazione no? anche della matematica e quindi devo sicurizzare la mia matematica dire aspetta prima ti dimostro che non solo l'aritmetica ma anche l'analisi sono ben fondate e dopo possiamo far tutta la matematica che vuoi c'è un'urgenza come dire all'epoca nel dibattito dei fondamenti più importante e forse anche più alla moda no? di un Hilbert che sta comunque in una tradizione ilbertiana in certi sessi è in quella scuola lì e fa quello che è alla moda in quella scuola risposta un po' sociologica d'altra parte risposta un po' più come dire meno meno sociologica meno di analisi del spirito del tempo è come vedrebbe lui però la la geometria proiettiva nel senso noi quello che sappiamo è come tratta l'aritmetica no? in calcolo dei sequenti e sappiamo che lì per esempio o in deduzione naturale l'unico assioma che diventa una regola è l'induzione tutto il resto diventano dei basic sequence no? dei sequenti di base in geometria proiettiva cosa diventerebbero? dei sequenti di base gli assiomi se sì hai una cut elimination abbastanza semplice nel senso che trasporto tutto faccio eliminazione del taglio fino agli assiomi e poi ho dei cut atomici o qualcosa del genere anche se in realtà c'è l'esistenziale e c'è la forma quindi di nuovo di come trattare l'assioma di non collinearità perché in quel caso lì forse non riesco a trattarlo come un sequente di base perché ho un esistenziale no? cioè non è che lo trasformo in puri atomi no? perché ho sempre il mio esistenziale quindi come trattare l'esistenziale può essere che una questione sia forse non sapeva come fare o non si era chiesto e come fa? questo sappiamo che Jan ha fatto molti lavori su queste cose su come trasformare gli assiomi in regole e avere quindi poi delle dimostrazioni di cut elimination e di e di o di normalizzazione Gensen aveva in testa qualcosa così? Forse sì forse no non te lo so dire e perché non l'ha fatto non lo so se è per mancanza di tempo di interesse di questione che magari in questione della coerenza era più urgente o del pensare che magari come dire non era così interessante in fin dei conti la questione cioè che era un qualche puro esercizio non lo so sinceramente non ho non ho una risposta soddisfacente e perché è vero che poi abbiamo visto che sappiamo più o meno cioè Jan Tan Buchan altri insomma adesso c'è un un grosso lavoro in quella direzione lì poi tra l'altro oggi abbiamo dei lavori ancora più più che spingono ancora di più poi su l'uncostruttivizzazione no? come diceva anche Vincenzo prima della della geometria per esempio tutti i lavori di Bison quindi non solo le connessioni teoria della dimostrazione geometria ma anche costruttivismo perché sono arrivati così tardi e non li avevamo a quel tempo non lo so non ho non ho una risposta veramente soddisfacente io quello che tentavo di dire era questa cosa qui che non è che cioè mi sembra però che in quei passaggi che abbiamo visto quei passi che abbiamo che ho tentato di citare Gainzan abbia comunque un'idea forse più larga di quello che abbiamo noi oggi su cos'è teoria della dimostrazione nel senso di dare la possibilità di pensare anche altri tipi di operazioni sulle prove sì sì questo è molto interessante e questo e questo e questo mi sembra però io almeno a conoscenza mia non l'ho mai visto altre volte no di che operazioni facciamo sulle dimostrazioni sì c'è un altro punto se posso intervenire diciamo così che mi aveva cioè mi sembra che quella citazione da Gainzan quella del del lavoro del 38 la prendo mi senti ah sì stai solo condividendo sì sì quella del 38 quella diciamo su cui poi lui parla degli oggetti ideali cioè sostanzialmente lo spirito di come ce l'hai presentata tu è il seguente cioè non è che Gainzan ci dice come invece poi sostanzialmente ci doveva ci diceva Hilbert no che questi oggetti ideali vanno buttati fuori vanno in un qualche modo addomesticati con delle codifiche cioè tu li puoi tenere così come sono purché tu li usi bene nelle dimostrazioni cioè questo è un po' lo spirito del del almeno della tua ricostruzione di questo passo di Gainzan sì questo è un passo un po' complicato perché è tutto è un testo assai complicato quello del 38 nel senso Gainzan cerca una via mediana se vuoi fra finitismo alla Hilbert il costruttivismo no e lui quello che secondo me qui sta tentando di dire è dire guarda ci sono degli elementi che sono effettivamente degli elementi ideali o dei metodi ideali ma che se adotto un punto di vista costruttivista ho una maniera no di spiegarli e di capire il loro significato e quindi di no ridurmi ma rapportarmi a qualcosa che so usare e controllare senza dover fare sempre una dimostrazione di coerenza cioè che il controllo non è sempre un controllo dovendo andare a ridurre la coerenza alla coerenza dell'aritmetica ma che è un controllo su dei metodi più larghi che i metodi finitisti ma pur sempre in un certo senso controllati cioè l'idea di costruzione che ti viene dalla semantica BKK la la o che viene da l'idea di cioè che c'è sempre comunque un controllo da parte di un agente su quello che fai no sì ok sì sì appunto c'è questo interessante quello che volevo chiedere io c'è sostanzialmente cioè prima era venuto questo dubbio ma magari è una fantasia cioè lui dice se tu i punti impropri cioè gli oggetti ideali li puoi anche usare purché li usi in modo costruttivamente accettabile dove per costruttivamente accettabile possiamo anche intendersi vuol dire che magari non non intervengono in dimostrazioni per assurdo sì 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 allora quando lui dice la stessa cosa la si ha nella geometria proiettiva con i punti impropri io pensavo che lui avesse già diciamo in mente in un qualche lavoro magari nel cassetto una dimostrazione diciamo qualche dimostrazione strutturale no che dicesse guardate non è che dobbiamo proprio buttarle via questi punti impropri perché noi sappiamo che li possiamo usare in una derivazione perché sappiamo che le derivazioni nella geometria proiettiva sono normali in un certo senso era per questo che diciamo capisco 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 che ne hai un controllo che ne hai un controllo perché ne hai un controllo come dire dato da quello che puoi fare in teoria della dimostrazione con le tue tecniche dimostrative insomma sì che questo guarda non non ci ho pensato sinceramente e non ho non ho un riferimento per dirlo così ok va bene è vero è vero è vero che per esempio qualcuno come come Jan poi ha dei risultati effettivamente in questa direzione per lui ha dei risultati per esempio su subter property no per certe mi pare proprio per la geometria proiettiva tra l'altro da verificare la geometria affine affine ah ecco affine però diciamo ecco delle cose di questo tipo no in Gensel non ho dei riferimenti per dire che avesse in testa qualcosa un controllo come dire dei risultati di teoria strutturale della dimostrazione che mi potrebbero dare una qualche giustificazione dei metodi che uso no quello non se ne ne ok grazie grazie mille altre domande allora non ci sono mai alzate approfitto io avrei una tonnellata di domande per te provo a dirti diciamo le prime che mi sono venute in mente intanto diciamo un'impressione che è legata a questo lavoro di Ketonen che citavi perché sembra esserci un fondamentalmente sembra esserci Gensen con il suo interesse appunto poco noto se non il lavoro giovanile che citavi prima di geometria però questo che tu hai la tua analisi di oggi è sostanzialmente penso che è tutta nuova e quindi diciamo quando si accosta la teoria della dimostrazione geometria quello che viene subito in mente non è neanche Gensen ma è Ketonen come allievo di Gensen dopodiché si fa un salto fondamentalmente cartiato fino ad arrivare ai lavori di Mempe e di Jan con Plato sulle costruzioni in geometria di Euclide e poi il lavoro sulla geometria fine di Jan e così via e siamo sostanzialmente già negli anni negli anni negli anni 90 fondamentalmente dello scorso secolo quindi in mezzo in fondo sembra quasi che non ci sia stata eccetto alcune preoccupazioni per l'aritmetica e per l'analisi un grande interesse per applicare realmente la teoria della dimostrazione a teorie matematiche reali diciamo la teoria della dimostrazione si è molto concentrata su se stessa dal punto di vista logico e questa applicazione era o a volte sottintesa o a volte marginalizzata solo a certe teorie quindi la geometria diciamo si ha avuto questa ripresa negli anni 90 e quindi vedere che invece una strada fondamentalmente non presa era già stata immaginata in parte da Gensen stesso è interessante cioè una di quelle cose che sono nella tradizione ma che poi appunto non vengono sono fruttuose come hai mostrato tu sono quelle strade non prese che nel passato sembravano non produrre nulla e oggi invece danno degli effetti interessanti come quella la riflessione che hai fatto tu sulla ridondanza che appunto anche quella appunto mi sembra una strada non presa cioè cosa accade se noi siamo ridondanti allora la mia domanda è un po' questa se la tua la morale della tua riflessione sulla ridondanza può essere questa da un lato che non conviene giocare al gioco di trasformare anche gli assiomi propri delle teorie in regole perché lì oscuriamo una parte una parte interessante della dell'analisi delle dimostrazioni cosa che invece è quello che il trasporto anche degli assiomi propri in regole sembrava favorire questa analisi generale della dimostrazione dall'altro versante mi sembra poter essere un contributo importante importante ha un problema gigantesco che è quello di quando due dimostrazioni sono la stessa dimostrazione che è il problema dei problemi cioè se ci guardi isomorfismo Carrie Howard guardi i programmi hai l'equivalenza tra i programmi a questo punto la tua intuizione mi sembra non solo profonda per rileggere il passato ma fruttifera per guardare il futuro cioè guardiamo a sistemi di azioni ridondanti guardandoli da quel punto di vista preserviamo non solo estenzionalmente i teoremi che possiamo dimostrare ma anche la stessa struttura dimostrativa se hai queste due cose puoi forse avventurarti nel dire che hai due dimostrazioni equivalenti la mia domanda è se la morale di questa tua talk può essere non portiamo tutto in regole uno e due questo guardiamo alla ridondanza come un buon approccio all'equivalenza di dimostrazione programma Pierluigi tu hai toccato nel pieno le due preoccupazioni che io ho grazie mille no allora la prima la prima tocchi veramente una grande questione perché forse tu sai anche nella mia tesi la mia tesi era proprio una tesi nel tentare tesi di dottorato in cui cercavo di dire ma si trasformiamo gli assomi in regole ben venga è la buona maniera la mia veniva più dal punto di vista della proof theoretic semantics e quindi una filosofia del linguaggio da quel punto di vista lì però quella era l'idea e effettivamente la cosa che mi aveva affascinato tentando di dare questa ricostruzione di Genza era dire beh ti guarda non sempre è così bene trasformare gli assomi in regole quindi non siamo dogmatici un'altra volta ma guardiamo a seconda di cosa qual è l'obiettivo e il tipo anche di operazione che uno vuole fare sulle prove e questo si connette anche alla questione di Paolo cioè è vero che è molto comodo trasformazione di assomi in regole quando vuoi ottenere dei risultati di normalizzazione eliminazione del taglio alcune proprietà diciamo se non è sotto formula almeno sotto termine perché ti ricombini poi la prova in certe maniere e riesci ad ottenere delle e quindi anche quelle anche quelle sono delle operazioni che fai sulle prove ma per certi risultati qui l'operazione è molto più banale detta tutta perché è un'operazione in cui sto solo cambiando come dire le variabili sto facendo una sorta di scambio di sorte di variabile è un'operazione molto banale però è un'operazione che uno può fare e qui se uno vuole ottenere questa risultato poi di preservazione sì direi è molto meglio tenere gli assiomi come assiomi e non trasformarli in regole quindi quello che voglio dire è dipende insomma la trasformazione di assiomi in regole talvolta bene tenere l'assioma quindi non ho non so che grande morale tirare però questa è cioè ero un assolutista della trasformiamo tutto in regole adesso mi dico no guarda gli assiomi talvolta hanno il loro ruolo e un ruolo come dire teoretico dimostrativo importante ecco perché voglio una netta separazione no fra l'assioma e tutto quello che invece sono le regole logiche la questione della ridondanza e lì è una questione complicata perché non lo so se poi basta introdurre lasciare la ridondanza per poi avere una migliore analisi della preservazione della struttura cioè in questo caso funziona però funziona anche per altre teorie non lo so non ho mai provato inoltre qui è vero che la la nozione di identità che ho è un'ozione abbastanza debole questa è una delle critiche avevo dato questa expose la prima volta l'anno scorso proprio l'anno scorso a un seminario di colleghi brasiliani e Luis Carlos Pereira mi aveva un po' detto sì però fin dai chionti è un'identità che è una pura identità come dire non troppo interessante è di preservazione ok della struttura logica ma molto statica come dire l'operazione che hai fatto su queste prove è un'operazione statica hai rinominato delle variabili hai fatto una qualche permuta una funzione bionivoca sulle due set di variabili e lui diceva sì di solito l'identità di prove voglio vedere quando ho due prove che magari sono uguali e che hanno delle differenze più importanti a livello della struttura dove magari ho qualche differenza strutturale e che ciò nonostante le voglio identificare quindi la mia è veramente una minima di identificazione è una tappa minima che però la voglio sicuramente però ripeto una delle cose che volevo far venire fuori era questa era magari di dire sì siamo sempre in grandi riflessioni sull'identità di prove data da trasformazioni per riduzione o risultati importanti che vogliamo avere sulle dimostrazioni qui magari è una piccola cosa è una piccola trasformazione ma che resta tale e talvolta la dimentichiamo un po' cioè il mio è un lavoro e vorrebbe essere un po' un lavoro di andare a guardare delle piccole cose che magari possono sembrare banali ma non lo sono così tanto e che quindi di aggiungere a questa immagine di come dicevi tu abbiamo queste grosse questioni identità di prove come le otteniamo gli assiomi che ruolo devono giocare nelle dimostrazioni beh non siamo sempre assolutisti dipende dipende da che cosa da che operazioni facciamo e da cosa vogliamo preservare probabilmente diciamo esiste anche una sorta di economia di quando due prove possono sotto quali condizioni possono essere equivalenti cioè non è una sola soluzione esatto il tuo mi sembra un contributo altrimenti si oscillerebbe non lo so da possibili soluzioni in deep inference senza non avere nulla e in mezzo secondo me c'è una tassonomia di situazioni in cui puoi dire beh sicuramente quella che tu hai fatto vedere sono due due prove che hanno una io direi che sono uguali poi dopo di che uno può dire ma a un livello superiore a un livello più profondo no no sono d'accordo con te cioè mi pare e ritorno a una questione che tu hai posto prima secondo me c'è anche un perché ti chiedevi anche tu abbiamo ha dovuto aspettare così tanto la teoria della dimostrazione per avere una teoria della dimostrazione per campi specifici della matematica secondo me anche perché c'è un'evoluzione del pensiero un po' almeno in filosofia della matematica su come guardiamo anche l'analisi delle teorie delle matematiche per molti anni c'è stato sempre un punto di vista fondazionale e riduttivista dobbiamo ridurre che sia ZF o ad altro no all'aritmetica e adesso invece c'è più un'attenzione a legata anche no alla filosofia della pratica matematica che dice no ma aspetta ogni teoria ha le sue proprie tecniche dimostrative le sue pratiche e la teoria delle dimostrazioni mi sembra possa adattarsi no talvolta a teorie e teorie e però emergono poi delle questioni anche differenti sull'identità di prove sull'uso degli assiomi che dobbiamo fare e su queste questioni però mi sembra che almeno il punto forte della teoria della dimostrazione è che sia piuttosto ben adattabile a tutte queste cose e che ci possa dare delle buone piste di riflessione il grande merito direi è stato anche la grande campagna culturale che ha fatto Detlefsen a un certo punto su queste temate su Ideal Proof che ha aperto le porte alle riflessioni di Andrew di Arana da un lato ma anche riflessioni di storia della Mancosum ma direi tantissimi altri studiosi emergono insomma da quel filone lì assolutamente assolutamente penso proprio che io se vuoi sono un po' stato influenzato da tutte queste cose perché il programma di Mic era stato qui a Parigi e volete o non lente tutte le discussioni se non al programma le avevo seguita no è vero che come dire sì è strana questa cosa che si sia dovuto aspettare tardivamente per vedere delle applicazioni della teoria delle dimostrazioni a delle teorie particolari soprattutto grazie al lavoro di Jan Sara non sono stati fra i primi ad andare ad applicare veramente la teoria della dimostrazione perché anche nei sistemi alla Martin Love avevi qualcosa che restava comunque da un punto di vista molto fondazionale no cioè alcuni tipi di base naturali tipi induttivi e via dentro su queste grandi categorie anche lì considerare l'applicazione il lavoro quello di Petri Memp sulle costruzioni in geometria e su in teoria intuizione intuizione sì quindi però a parte questo intorno è difficile ed è un po' la domanda che faceva all'inizio di Vincenzo un po' connessa a quella anche di Paolo cioè capire perché hai questi grandi salti e hai poi delle iper concentrazioni no oggi oggi su geometria in realtà adesso c'è tutti i lavori di ci sono tutti i lavori non solo di Biso ma anche tutte le formalizzazioni poi in Coq di gente come Narbu e dimentico il suo collaboratore dopo mi riviene qui in Francia che lavorano su Automatic Truth Theory per o Proof Assistant meglio per geometria sono in fondo diciamo ti ho perso un attimo in connessione Pierluigi non so se è così per tutti forse aveva un problema di connessione vi aspettiamo dovrebbe scusatemi ho avuto qualche problema di connessione internet stavo appunto dicendo che considerare delle applicazioni a teorie matematiche aiuta anche a comprendere meglio alcuni interessantissimi temi e dei problemi della teoria della dimostrazione più più in generale ci sono altre ci sono altre domande allora siamo perfettamente nei tempi del nostro seminario quindi diciamo vorrei innanzitutto desidero ringraziare Alberto per la sua fantastica presentazione ha dato ha introdotto una serie di di temi e problemi assolutamente di grandissimo interesse avremo avremo modo anche di rivedere questa presentazione di Alberto e continuare a rifletterci sopra attraverso la registrazione che inseriremo nel nostro canale youtube quindi grazie ancora Alberto per questo meraviglioso per aver condiviso con noi questa meravigliosa serie di riflessioni sulla geometria proiettiva sulla teoria della dimostrazione applicata alla geometria proiettiva voglio ringraziare tutti i presenti come ho detto all'inizio questo è l'ultimo seminario dell'anno accademico riprenderemo la nostra attività seminariale verso la fine di settembre ovviamente ne daremo notizia sulle mailing list seguite ovviamente il se seguite ovviamente il nostro sito potete trovare già lì la proposta di relatori e poi via via gli indirizzi ci auguriamo di riprendere le nostre attività in presenza mi auguro di poter ospitare Alberto prossimamente insomma nel in presenza ad Urbino con un suo nuovo seminario quindi ecco state sott'occhio anche il nostro sito ancora grazie a tutti per aver partecipato a questo molti sono dei frequentatori assidui dei nostri seminari quindi ringrazio per aver partecipato a tutto il nostro ciclo di seminari e a questo punto anche vi auguro una buona estate e ci rivediamo con il prossimo ciclo di seminari ancora grazie Alberto e ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti